che accompagna questo regalo, chi lo firma? Mia madre dicendo forse servono più a te che a me A pranzo avete un impegno di lavoro quindi mangiate con qualcuno che vi deve fare una proposta Chi? Chi potrebbe essere? Non so, Loretta Goggi per esempio Perché no? Sì, Loretta Perché no? Potrebbe essere un'idea Nell'arco del pomeriggio vi viene in mente un titolo da dare o a un nuovo disco o a uno spettacolo che avete in mente di realizzare Quale potrebbe essere questo titolo? Beh, visto che parli di nuovo disco per esempio potrebbe essere Libertà che è un nuovo disco Certo, l'album che è un nuovo disco Grazie, buonasera Io non vorrei che fosse Vieni, vieni, vieni E lui è abituato a fare i tavoli col suo sbilenco strumento e quindi va girovagando E vabbè, speriamo che si ferma uno la cosa qui sono sei, si fanno una settimana e più Allora Le classifiche dei dischi Sembrano palatresi Quindi più celestiale di così Anzi, adesso ci sarà anche una celestiale Mmm Ma perché non mi fai divertire? Pensi solo a mandarmi a dormire e gli amici si danno da fare Ma perché non mi lasci suonare le canzoni che emette il DJ? Dici sempre che è meglio studiare, ma la media è già quella del 6 Abbi il piede un momento, parlerò con papà, se lo prendo da solo, poi vedrai capirà Dici sempre un momento, ma so già che dirà, pensa a cose importanti, tanto poi si vedrà Ma perché non mi lasci portare minicorme che fanno sballare, con le gambe scoperte, mio amore, ti puoi prendere un bel affreddore Ma perché non mi lasci guidare, quella moto che porta Daniele, qualche volta mi sembri crudele, proprio tutto mi devi vietare Abbi il piede un momento Non vedo! Papà Albano! Volevo sentire che cosa... Guarda! Che meraviglia! È davvero, guarda! Brighiamo la salute di questa splendida famiglia! Manida, grazie! Manida, Manida è il nome di questo aperitivo Salute! Salute, salute e felicità a questa bella famiglia! Cin! Quanto sono belli! Ciao! Ciao e grazie! Vedi anche tu! Dai! Salute, salute! Grazie a te! 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 Grazie a te!